Uè, non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono XIUDER e ragazzi volevo condividere insieme a voi un momento particolare per quello che riguarda la mia personale collezione di oggetti in Fortnite. Infatti ragazzi, dopo tre settimane di ricerche, dopo che avevo praticamente dato per scontato fosse impossibile ottenerlo, sembra che sia entrato in possesso di un codice per questo spray che vedete in-game. È lo spray LAMA Galaxy. Viene dato solo ed esclusivamente con l'acquisto della cover ufficiale per Samsung Note 9. insieme a 1000 V-Bucks. Io non l'ho ancora inserito, non l'ho ancora provato ragazzi, ma come vedete sono nella pagina principale di Fortnite. Intanto togliamo... No, le porte non ci interessano. Togliamo la base qua in alto. Nella pagina di Fortnite, nel mio profilo, proviamo e lo vediamo in-game. Riscatta codice. Inseriamo il codice d'accesso. Utente XU del YouTube, è giusto. Ed il codice è 2-Z-G-A-A-E-N-Y-B-X-N-L-U-8-N-5-4-5-E-3. Ci provo. Un bel like per il Galaxy. Aiaiaiaiaiaiaia. Aiaiaiaia. Lala Maxi. Lala Maxi. Caudo su YouTube. Attiva. Lo andiamo a vedere in-game. Voglio vedere, voglio vedere. Adesso sono... Adesso sono curioso. Adesso sono curioso, raga. Apriamo un attimo Fortnite. Perché lo voglio proprio... Perché mi deve far chiedere la password. ma dannazione datemi un secondo che mi mi fa metterla password io non capisco questa come chi se la ricorda sarà questa non era questa diamine diamine Vediamo se non è neanche questa Ma come l'ho detto passano corretti allora era era questa per forza non era questa sono preoccupato Allora era questa non è neanche questa Raga non so più la password un momento Non hai dimenticato password o dimenticata c'è un problema tecnico non volevo non volevo ho dimenticato la password un secondo ma che che cazzo Chiedo scusa ragazzi chiedo scusa mi sto facendo rinviare la password non era non era assoluta che email inviata meno male almeno posso Accendere la mia mail ma perché ho dimenticato la mia password Adesso sto aspettando che pic mi manda chiedo scusa ragazzi non era prevista questa cosa non era assolutamente prevista questa cosa forza forza Ok arrivato istituzione ripresimo della password ripristina la password per favore Ripristina la nuova password Mettiamo questa Mettiamo questa Poi utilizzano delle ultime cinque password Ma porca di quella Io io Perchè ogni ogni video Perchè ogni mio video deve finire così Ma che cazzo Password l'abbiamo ripristinata La password è ripristinata la password è ripristinata La password è ripristinata Un secondo un secondo Io non ho idea di che cosa Non ho idea di che cosa sia successo raga Vediamo se andiamo dentro Oh cristo codice di sicurezza No raga io Cioè Ma dai Ma perchè deve sempre essere Hai capito password è questo lo sapevamo Devo mettere il codice di sicurezza Figa però raga Cioè venti minuti per per far vedere io voglio vedere il cazzo di lama Questi dicono questo qua come cazzo fa ad avere tutta la roba Ok il codice Ok No aspetta Ma che cazzo Ok Con sicurezza non è valido Ma come è scaduto Oh E questo Cazzo non è Ma come non va bene il codice di sicurezza Oh raga E' questo Oh figa non va bene raga Non mi fa andare con il codice Adesso è un altro Siamo dentro 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 Calmarsi chiedo scusa per la Il tempo che vi ho fatto perdere Non può finire ogni Non può finire ogni mio video Perché E' partito un audio Voi non avete l'audio del cosa Non so perché chiedo davvero scusa per questa Per questa cosa Datemi un secondo Davvero davvero Stiamo riaprendo fortnite Attenzione Attenzione Ora ci siamo Io non ho parole Non ho parole Non ho parole Non ho parole Dai come on Come on Come inside Come inside Andiamo dentro Lo voglio vedere in game Lo voglio vedere Attenzione Vediamo se arriva la notifica Le mani al cielo Le mani al cielo C'ho la suspense che mi sembra capodanno Dai 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 Fortnite Battaglia reale Sagara Pro Che Figata Che Figata Lo voglio vedere Lo voglio vedere Lo mettiamo subito Uno degli spray Più rari in assoluto Lo mettiamo sicuramente Nelle Negli spray quelli Dove sono gli spray LOL Saluto momentaneamente Spray Questo livello stagionale 100 Bellissimo ma Non mi interessa Look at this Look at this Lo voglio provare in game Dentro Dentro in un game Dentro in un game Dentro in un game a provarlo raga Lo proviamo prepotentemente con questa skin Vediamo se riusciamo a metterla No vabbè raga E' meraviglioso Super like per il cavolo di Di cavolo raga E' troppo E' troppo bello E' troppo bello E' troppo bello Dai che andiamo raga come on Lo voglio vedere Lo voglio vedere in game Lo voglio vedere in game Che meraviglia Che diamine di meraviglia Dov'è? Guardalo qua L'Amalattico si chiama L'Amalattico Vi chiedo davvero scusa Per avervi fatto perdere quel tempo lì prima Attenzione Lo proviamo Lo proviamo proprio qua Questo è il cablama Figo Ooooooooooo LOL LOL Signori con questi due lama E con la gente che viene qua a controllarli Io vi ringrazio Per aver guardato questo video E' davvero Gente che si triggera prepotente Vi faccio triggerare anche con questo Look at this Look at this E adesso un po' di hamburger per tutti Hamburger hamburger No raga il lama galaxy è troppo figo No raga è troppo figo E' meraviglioso Si ottiene solo con l'acquisto Di una cover del Samsung Galaxy Note 9 Ed è stata un'odissea Ottenerla ragazzi è stata un'odissea Ho chiamato in Austria Ho chiamato i negozi di elettronica Mi hanno insultato in tedesco Mi hanno insultato in austriaco E alcuni anche in italiano Ce l'abbiamo fatta Vi ringrazio tantissimo Per aver guardato questo video ragazzi Davvero tanta tanta roba Vi mando un abbraccio grande Vi ricordo che questo pomeriggio Non c'è La live Intanto Ce ne andiamo così Codice creator xuderone Iscrivetevi al channel Noi ci vediamo in live Domani mattina alle 8 Ciao Ho sbagliato slide Ho sbagliato ancora slide Ciao